E' come questo, cioè quando si uscita a fare queste escursioni, anche con le scolari, a fare queste scolari, anche con le scolari, anche con le scolari. E' come questo, cioè quando si uscita a fare queste scolari, anche con le scolari. E' come questo, cioè quando si uscita a fare queste scolari, anche con le scolari, anche con le scolari. E' come questo, cioè quando si uscita a fare queste scolari, anche con le scolari, anche con le scolari. E' come questo, cioè quando si uscita a fare queste scolari. Grazie. 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 Alex 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 Noi andiamo pieno caffè, eh? Dove? Noi, 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 noi.